Non è rispettoso, non è una provocazione, non è nulla. È solo una blasfemia gratuita e volgare, quella pensata dal settimanale tedesco Schiegel, che a pochi giorni dal Natale pensa bene di mettere in copertina un presepe davvero inaudito. Gesù bambino giace non nella mangiatoia ma in una scatola di cartone con il logo di Amazon sulla fiancata. Come a dire che il bambinello si possa comprare online? E come non bastasse, fra la Madonna e San Giuseppe avviene anche un dialogo che definire blasfemo è poco, io non l'ho ordinato, dice San Giuseppe a Maria. E la Madonna replica, possiamo cambiarlo? La chiosa del settimanale tedesco è il titolo La Festa Consegnata, il commercio online rivoluziona la nostra vita. La copertina irriguardosa introduce un servizio di ben otto pagine sul commercio online, in cui si argomenta che il cliente è come Dio. Il commercio tradizionale è alla fine della corsa, si legge nel servizio, e i clienti ne approfittano. Hanno più potere che mai. Tutte considerazioni valide, senza alcun dubbio. Ma sembra proprio che insieme al commercio tradizionale, allo spiegella abbiano deciso di mandare in soffitta anche il buon gusto.